Questo è mio padre, Simone. È Paolo, l'altro mio papà. Si sentivano pronti per mettere su famiglia. Tutto è cambiato quando incontrarono lei, Tilly. E grazie a Tilly sono nato io. Leone! 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 Come sta andando il tuo video sui diritti LGBT in Europa? Io non autorizzerò mai delle immagini in cui non sono bellissimo e giovanissimo. Allora non ci saranno immagini due in questo video. Grazie a nizza! E chi è lì? Mi fai compagnia? Io? Sì. Non ho mai conosciuto uno con i due padri. Cercavo di indovinare chi dove fosse tuo padre biologico. Se non lo ritradisce. Come hai potuto? Ne parliamo in un altro momento. Cosa? Della nostra separazione. Non l'ammazzo! No! 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 La Cassazione si è espressa contro la doppia paternità. Potremmo essere tutti costretti a fare l'esame per capire chi è il padre biologico. Non è possibile che non sia il tuo padre biologico? Simone o Paolo? Non lo so. Perché non? Scari sono molto buoni. Cosa rende una persona unique? Che nessuno è la persona che stirza in prima volta e una persona cheindestri. Sang Grazie a tutti